Corso Vittorio Emanuele, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Via Colette, Via Baccarini, Barletta cale il pocherissimo e le vetrine di 37 attività commerciali si riempiono di quadri e opere d'arte al fianco della merci in esposizione. Dalla riflessione sugli spazi nasce Voglia d'Esta Arte, manifestazione che fino al 25 giugno vedrà circa 60 opere proposte dalla Art Gallery 56 di Nunzia Cheppa nei negozi del centro. Protagonisti, modelli e stili contemporanei che propongono una discontinuità della visione indagando il rapporto tra spazio interno e esterno e la proiezione nella dimensione fittizia dell'opera d'arte. L'evento ha avuto un prologo in Piazza Caduti che nel weekend ha ospitato performance dal vivo di diversi artisti locali e non. Un prodotto da ripetere ed esportare secondo Francesco Piscardi, portavoce del Comitato Strade dello Shopping, ente copromotore della Kermess. Nasce da un incontro con tanti artisti di Barletta che non trovano gli spazi adeguati per mostrare le loro opere. Poi pensiamo che l'arte è un senso di cultura e comunque fa parte di quello che è il vivere quotidiano della città. Poi insieme alla Art Gallery 56 che è presente qui a Barletta abbiamo pensato di mettere su questa iniziativa e siamo al primo esordio che appunto prende il nome Voglia d'Estate e abbiamo pensato di fare una due giornate come collettiva di artisti locali e non in Piazza Caduti e poi fino a sabato 25 in tutti i negozi che hanno aderito a questo tipo di iniziativa. Ricordiamo un po' i numeri, 37 negozi coinvolti, circa 60 sono le opere invece esposte. Può essere questo il primo passo verso una ricerca dell'attitudine all'arte nel commercio in ogni giorno? Beh sì perché fortemente abbiamo creduto a questo progetto, lo ha creduto la responsabile della Art Gallery appunto, l'abbiamo creduto noi come commercianti appunto facenti parte del comitato strade dello shopping. Poi una citazione di Oscar Wilde dice la bellezza salverà il mondo e quindi noi riteniamo che potendo esprimere queste opere che credo sono delle opere meravigliose, invitiamo tutti i cittadini e non a visionarli presso i nostri negozi, possiamo dare solo un senso di lustro e di cultura alla nostra città. Ecco dopo le prime ore di questo evento che commenti avete riscontrato nei clienti? Beh devo dire molto positivo, sembra che Barletta proprio come cittadini sono molto ricettivi, noi non eravamo nuovi in questo tipo di iniziative ma poi proprio come comitato strade dello shopping dove aderiscono appunto le attività del centro cittadino, abbiamo già dall'inizio dell'anno fatto altri format, uno più particolare dell'altro, riteniamo che questo abbia un senso e un sapore differente. Qual è l'invito in chiusura che sentite di fare ai Barlettani per questa settimana che si prospetta davvero molto intensa? Beh intanto visitare i negozi, visitare appunto la nostra piazza caduti perché riteniamo che questi luoghi che possono essere indifferenti al passaggio delle persone, al passeggio quotidiano, del vivere quotidiano, con questa espressione di arte renderemo sicuramente più belli questi luoghi e con un impegno di tutti e con un senso civico e un desiderio di voler scoprire l'arte sicuramente ci accomuna un po'. Grazie a tutti.